Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Albano allarga nuovamente la sua grande famiglia. Arrivano altri figli per il famosissimo cantautore ed ex marito di Romina Power. Albano ha già sei figli diversi dalle due donne più importanti della sua vita, nonostante abbia perso la maggiore dei sei in circostanze sospette. Ancora ad oggi, infatti, nonostante Ilenia sia sparita nel 1993. Non sappiamo sul serio se la donna sia viva o meno. Purtroppo, i due non dimenticheranno mai la sofferenza della perdita della figlia, ma hanno imparato a conviverci. Anche grazie agli altri figli dei cantanti, che sono sempre stati comprensivi ed hanno aiutato per anni i genitori. D'altronde, come Romina e l'ex marito, anche i figli hanno un grandissimo cuore. Pensate che i figli di Romina vanno persino molto d'accordo con i figli di Loredana. Adesso, però, ci sono dei nuovi arrivati in famiglia. Infatti, l'uomo ha allargato nuovamente la sua grande famiglia, aprendo le porte di casa ad altre persone. Albano ha infatti accolto in casa tre ragazzi ucraini e la loro mamma, fuggiti dalla loro casa a causa della tristissima e pericolosa guerra tra Ucraina e Russia. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.